Adriana Volpe quest'anno non è stata confermata al Grande Fratello Vip, ma fra le pagine del settimanale chi ha confessato di guardare lo stesso l'edizione. Al contrario di quanto detto inizialmente da Sonia Bruganelli, la conduttrice ha sempre manifestato la volontà di tornare nel ruolo di opinionista e quando Alfonso Signorini le ha chiesto di partecipare come concorrente è stata costretta a rifiutare, è una proposta che non avrei mai potuto accettare, la mia situazione familiare è cambiata rispetto al 2020, quando entrai nella casa. Oggi mia figlia può contare solo su di me, è tutto sulle mie spalle, non posso allontanarmi così a lungo. Capisco che, per le dinamiche del programma, avere me nella casa e Sonia come opinionista sarebbe stata una bomba, immaginatevi che interazione avremmo avuto. Ma, nella vita, ci sono delle priorità, la persona viene prima del personaggio e mia figlia prima di tutto, provo solo riconoscenza nei confronti di questo reality che mi ha dato tanto e mi ha permesso di crescere. Il rapporto con Sonia.Adriana Volpe è stata un'opinionista perfetta e in combo con Sonia Bruganelli ha dato vita a quella che è stata a tutti gli effetti la miglior coppia di opinionisti della storia del grande fratello Vip, ho provato in tutti i modi a creare un ponte fra me e lei, ma non ha voluto. Quando, in puntata, Eleonuar Ferruzzi ha detto a Sonia, torna a seguirmi sui social, mi sono morsa la lingua. Mi veniva da dire, almeno per un po' ti ha seguita. Io ho lavorato con Sonia per otto mesi e non lo ha mai fatto, mentre io l'ho seguita. A fine programma ho smesso di farlo anch'io, siamo all'inizio. Ma ho ben chiara l'immagine di Sonia nella prima puntata di questa edizione, in cui indossa un collier bulgari a forma di serpente e dice, c'è sempre una serpe in seno. Ha costruito un personaggio, ha creato una propria immagine. Poi non so quanto sia realmente vera, ho sempre voluto pensare che sotto ci fosse altro. Vediamo. Può essere, invece, l'anno in cui spicca il volo e la vedremo condurre programmi da sola in prima serata. Io ero sicura che Sonia lo avrebbe rifatto. Il suo sogno era essere l'unica opinionista, sapevo perfettamente che era così. Adriana Volpe su Orietta Berti. Infine ha parlato di Orietta Berti. Per fare l'opinionista bisogna avere una grande passione per il GFVIP, seguire le dinamiche della sera e della notte, quando di solito succedono più cose. Bisogna studiare gli atteggiamenti, sentire quello che dicono i concorrenti e in quale contesto, ci sono frasi che non necessariamente finiscono nei filmati del serale, ma che qualificano un personaggio. Vivevo sintonizzata con il GFVIP, mi addormentavo con i viponi. Allora, forse, a Sonia manca questo tipo di confronto. Ma credo che Orietta ci possa riservare sorprese perché lei dichiara di dormire poco e potrà rimanere sintonizzata sul canale di live. Punto. Siamo alle prime puntate, deve ancora capire i tempi, ma quello che ho visto mi è piaciuto.